In campo ci siamo stati, era una partita da vincere secondo me, non siamo stati bravi a far gol e ci hanno punito, però non meritavamo, dobbiamo tornare agli allenamenti ancora più cattivi e migliorare perché dobbiamo far meglio, dobbiamo far gol, dobbiamo vincere e quindi c'è ancora molto da lavorare. La strada è questa perché ci siamo allenati bene in Turchia nel mini ritiro che abbiamo fatto e lo si vede in campo secondo me, però non è abbastanza perché bisogna vincere, bisogna far punti, ne abbiamo bisogno quindi dobbiamo fare di più come ho già detto. I tifosi ci credono 10, noi forse ancora di più quindi dobbiamo farlo anche per loro che sono fantastici.